cosa accade il 7 aprile del 1939 il 7 aprile del 39 l'italia fascista occupa l'albania e con l'arrivo degli soldati arrivano anche molti coloni tecnici gente che credeva che l'italia l'albania ormai era parte del regno d'italia d'albania non è che semplicemente lo credeva ma così la storia è andata così tra queste persone queste persone si troveranno in un limbo nel 1943 dopo l'armistizio e si troveranno in un paese dove non sono voluti ma allo stesso tempo dove arrivano i tedeschi si nascondono e dopo un anno arrivano al potere i comunisti che trovano all'interno del paese 20 mila 27 mila italiani e diventa che sono in questo momento un po delle pedine di scambio nei giochi che si fanno tra l'est e l'ovest l'albania sta diventando comunista l'italia esce distrutta dalla guerra non ha ancora il potere di poter intervenire dunque il destino di queste persone rimaste chiuse all'interno dell'albania è un'incognita per tutti tra questi c'è un personaggio alfredo cecchetti che era l'operatore dell'istituto luce che aveva ripreso quel 7 aprile che aveva ripreso per conto della propaganda anche tutte le gesto del fascismo in albania che all'improvviso si trova in un paese che ha bisogno di operatori cinematografici e per uno scherzo del destino diventa l'operatore del comunismo per un breve periodo questo gioco e questo passaggio praticamente da servitore dei due padroni diciamo è la storia del personaggio che nel titolo è alfredo ci la macchina delle immagini di alfredo ci è tutto questo insieme delle immagini che l'operatore cecchetti ha ripreso durante il fascismo e durante il comunismo la voce extra diegetica di alfredo sembra un po un passepartout per riflettere sul senso e sull'uso delle immagini la responsabilità di chi filma ma anche di chi le legge il documentario è un film ibrido come si usa dire oggi quando per aiutare la narrazione dei documentari storici si mette in scena una storia dando corpo attraverso un attore al personaggio in questo caso alfredo cecchetti e dando voce alle sue immagini alle sue ai suoi pensieri alle sue opinioni attraverso un testo che ho scritto come sceneggiatura e il suo non è la sua non è semplicemente una ricostruzione di una storia degli italiani rimasti lì ma è l'occasione anche per me di esplorare i temi che hanno a fare con la propaganda un po di come queste immagini vengono servite e di come queste immagini vengono anche digerite dalle persone praticamente queste immagini che hanno alla base molto spesso la falsità qui in questo vengono un po sottoposti all'attenzione all'attenzione dei suoi pensieri per essere decostruiti e per costruire una nuova storia violenza alle sue come condizioni della sua esperienzajunta del suo keninomità di internazionale